Allora, concludiamo il percorso su René Magritte con la visione di alcune altre sue opere. Vi presento, ma non ve la commento più di tanto, l'invenzione collettiva 1934. Curioso, no? Abbiamo sempre pensato a una sirena, immaginandola con la parte alta del busto in su, come quella di una donna, e la parte sotto come quella di un pesce. Ecco, è una sorta di codice da tutti accettato e che Magritte ci propone, come in tutti i suoi limiti, no? La codificazione. In realtà vorrei parlarvi di altre due opere in questo video. La prima che vi presento, e su cui voglio proprio lavorare, si intitola La bella prigioniera del 1947. Quindi vi ho detto, con Magritte ci spostiamo veramente, ci inoltriamo nel pieno del Novecento, ma la matrice surrealista è fondamentale. Insomma, diciamo che il suo linguaggio, ancora possiamo definirlo surrealista, nonostante appunto nel frattempo fosse anche già finita la Seconda Guerra Mondiale. Quindi lo scenario artistico era davvero cambiato. Ma La bella prigioniera. Come sempre, i titoli ci stuzzicano e ci lasciano interdetti. Vi ricordate, no? L'essere interdetti, questo spaesamento. Questo essere attoniti davanti a qualcosa di incomprensibile. Cosa vediamo? Allora, noi vediamo innanzitutto una spiaggia, davanti alla quale noi scorgiamo un cavalletto, che ha al di sopra un dipinto in cornice, che rappresenta quella stessa identica spiaggia, quello stesso identico mare. Poi vediamo un grande masso, un grande sasso, e poi vediamo una tuba infiammata. Un cielo plumbeo, ma insomma è un paesaggio, con questi oggetti. Quindi ricordiamoci che questa successione di oggetti, che apparentemente non c'entrano nulla, è il primo elemento che sicuramente affascina il nostro Magritte. Ma qui, di nuovo, abbiamo a che fare con la pittura come rappresentazione. La pittura che svela il suo essere semplicemente un codice di rappresentazione. Perché qui vedete che il grande protagonista, proprio centrale del dipinto, è un dipinto. Sempre che noi non decidiamo che quello che noi stiamo guardando è in realtà una cornice vuota, per cui il paesaggio che c'è alle spalle noi riusciamo ancora a scorgerlo. Questa idea di pittura che replica perfettamente la realtà, quasi fotografica, si rifà a tutta la tradizione dei trompe l'oeil, questa rappresentazione perfetta del reale, tante volte lo si trova sulle pareti dipinte, quasi come se fosse uno sfondamento della parete e far entrare la realtà che è al di fuori, all'interno del dipinto. Oggi questo residuo dei trompe l'oeil si trova in quasi tutte le pizzerie o i ristoranti di pessima categoria. No, non è vero, non è vero. A livello visivo spesso sono pessime queste rappresentazioni pittoriche. C'è chi dice addirittura che se si trovano in un ristorante, in una pizzeria brutti dipinti, è un buon segno che si mangerà bene. Ma per farvi capire questo scenario di rappresentazione, questo golfo di Napoli che si presentano nelle pizzerie di Varese, o di Como, o di, scegliete voi la città o di Piacenza. E in realtà rappresenta, è come se davvero potessero eliminare la parete e stessero dicendo che noi siamo davanti al vero paesaggio, a portare un pezzo del paesaggio, un pezzo della realtà, in quel caso davvero se sono pizzerie del sud Italia, vogliono portarci un pezzo, facci respirare, un pezzo di questa realtà. Ma sicuramente qualcuno di voi direbbe, però c'è un problema, questo non può essere una semplice cornice, perché altrimenti vedremmo il cavalletto qui dietro. Questa è una superficie che è opaca, quindi è un dipinto, perché altrimenti vedremmo davvero il retto del cavalletto. Certo, ma stiamo parlando di Magritte, stiamo parlando del fatto che Magritte sta associando proprietà agli oggetti che talvolta non hanno, perché nessuno di voi si è ancora stupito del fatto che questa tuba che è fatta di ottone sia in fiamme. L'ottone non può bruciare, non può infiammarsi. Allo stesso modo, allora forse il cavalletto può essere invisibile, se una tuba può bruciare. Ma c'è un ulteriore problema, perché se voi vedete, addirittura il riflesso delle fiamme ci compare all'interno del dipinto. Allora forse questo è uno specchio, allora forse siamo davanti a, non è un dipinto ma è semplicemente lo specchio e alle spalle nostre c'è questo esatto scenario e quindi allora forse voi capite che questo sarebbe giustificato dalla presenza del riflesso delle fiamme, oddio ci frigge il cervello, no? Voi capite che questo esattamente è l'obiettivo di Magritte non farci friggere il cervello evidentemente, ma è quello di proporci una pittura che concretizza il pensiero, che rende visibili i meccanismi del pensiero. Allo stesso modo la presenza di questo grande masso, cosa ci fa in una spiaggia un masso di questa portata? Sicuramente non l'ha portato il mare perché è troppo pesante, sicuramente non ha nulla a che vedere con la conformazione geologica della spiaggia, quindi queste presenze misteriose accostate tra loro che svelano, rivelano quello che è il nostro meccanismo, la nostra prigioniera, la nostra prigionia mentale. Allora torniamo al titolo, la bella prigioniera. Forse è la realtà la bella prigioniera, forse è il nostro credere che possiamo avere la lettura della realtà sotto controllo, forse è l'idea del controllo stesso, della razionalità stessa, di quei meccanismi che ci potranno nominare gli oggetti e a credere che se un oggetto fa una cosa non ne possa fare un altro. Ecco, forse è tutto un grande equivoco, è un grande comune meccanismo, ricordiamoci appunto, quello che abbiamo visto un attimo fa e quindi davvero questo potrebbe essere una lettura interessante che vi lascio aperta perché non c'è una soluzione se non appunto quella di svelare questi meccanismi che sono codici, che sono codificati e che quindi come tali possono essere modificati perché i codici sono fissati da qualcuno condivisi ma possono variare, basta vedere davvero le lingue diverse che usano codici diversi per gli stessi oggetti. Ma la pittura è unica, usa lo stesso codice linguistico che capiamo sia i francesi che, cioè quelli che parlano la lingua francofona perché appunto ricordiamoci che lui non è la francese ma è la belga, sia quelli che parlano italiano, che parlano inglese, tedesco, sceliete voi le lingue che preferite. Vi presento un'altra opera sulla stessa scia, come dire, sulla stessa prospettiva, ecco, diciamo così, e lo uso volutamente questo termine. Voi vedete l'opera si intitola La passeggiata di Euclide, anzi passeggiate al plurale di Euclide, un'opera del 1955, di nuovo molto tarda. Come vedete, di nuovo c'è la presenza di un cavalletto, sempre che noi crediamo che questo è un cavalletto, ma siamo davanti a un cavalletto dipinto, quindi già questo è il primo svelamento, è posizionato davanti a una finestra, cavalletto che sostiene un dipinto, ve lo sto più o meno disegnando, sulla base del margine di questi chiodini che servono per fissare la tela al telaio, qui c'è la linea di contorno sottile, 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 e qui c'è il limite fissato dalla presenza di questa parte alta del cavalletto, se diamo credito che questo è un cavalletto e che non è invece una parte della struttura della finestra. Su questo cavalletto comparirebbe quindi questo dipinto che rappresenta ciò che c'è al di là della finestra, quindi di nuovo la pittura che replica fedelmente, come se fosse una fotografia che sfonda la parete esistente e che quindi ci ripropone lo stesso oggetto, lo stesso scenario, lo stesso paesaggio in questo caso, che vedremo a occhio nudo. Tra l'altro il vetro è trasparente, quindi come se fosse anche la pittura che rende trasparenti questi meccanismi. E questo titolo, Le passeggiate di Euclide, forse fa riferimento al grande filosofo e matematico, evidentemente, con le sue teorie, i suoi teoremi, appunto. E vedete appunto che la forma geometrica di questa prospettiva che corre verso il fondo viene replicata esattamente allo stesso modo dalla forma conica di questo coronamento, di questa torre dipinta che compare nel quadro. A questo punto davvero non sappiamo più se sia una replica, un essere duplice, non capiamo più quale sia la trasparenza, quale sia l'opacità, se la pittura sia opaca perché rivela, oppure se sia una coppia che ci permette di riflettere sulla realtà stessa. E quindi questa geometria, questa dare una regola anche matematica scientifica alla realtà forse di nuovo messa in discussione con tutte le sue possibilità. Ultima opera che vi mostro, ma davvero sono appunti, sono spunti, questi non sono assolutamente esaustive come letture, vi presento la battaglia delle Argonne, ho dipinto nel 1959, quindi anche questo molto tardo. Dunque, intanto parto dal titolo. La battaglia delle Argonne era avvenuta come battaglia quando nel 1918 le truppe americane e quelle francesi avevano ricacciato l'esercito tedesco oltre il fiume Mose. Quindi, un titolo che ha a che fare con una battaglia storica, che però appunto ha a che fare con i confini, che ha a che fare con il cacciare indietro, con una sorta di ripresa della libertà, con una sorta, non so, la storia la lasciamo in sospeso. Così come in sospeso, vediamo che in questo cielo con una piccola falce di luna compaiono una nuvola e fino a qui niente di strano e un enorme masso galleggiante, sospeso, che levita verso l'alto o forse che sta precipitando verso il basso quasi a schiacciare questo piccolo paesino che compare qui al di sotto come una minaccia incombente. Ecco, allora forse il titolo si riferiva a questa minaccia incombente, ma allora non si capisce se si sta allontanando o se si sta invece abbattendo verso il basso questa pietra e di conseguenza questa minaccia. Di nuovo vengono associati agli oggetti delle caratteristiche, delle proprietà che gli oggetti non hanno, come era l'infiammabilità per gli ottoni, no, per l'ottone, per la tuba che abbiamo visto un attimo fa o com'era appunto nel caso anche di, vi ricordate, Golconda, tutti questi borghesi con la bombetta e il loro bel sopravito pulito, ordinato, ben stirato che appunto erano sospesi nel vuoto. Ecco, con questa direi che veramente vi ho mostrato un po' di opera di magazine, sono tantissime altre, tutte interessantissime, i meccanismi sono sempre molto simili. Questi titoli che spiazzano talvolta la presenza delle parole direttamente dipinte oppure l'associazione del dipinto ha un titolo che ha delle parole che ci aggiungono e ci spostano e che ci portano a riflettere perché davvero con lui le parole diventano cose.